ciao amici di peprati mountain bike roma chi non è mai incappato durante la propria uscita in qualche problema meccanico o ha dovuto scomodare amici o parenti per essere recuperato in panna in giro peprati dovrebbe far ridere questa cosa non lo so mica spesso e volentieri la maggior parte delle volte con pochi attrezzi e nozioni di meccanica base si riesce a tornare sani e saldi a casa con riparazioni per accenza poi da rendere definitive presso officine specializzate succedate solamente e i nostri sono solo dei piccoli consigli cosa possiamo portarci quindi sempre appresso nel marsupio nello zaino e riuscire nella maggior parte delle volte a tornare a casa beh vi mostriamo cosa ci portiamo noi le nozioni di come utilizzarli dovrebbero far parte del bagaglio tecnico base di ogni rider e comunque ne faremo qualche semplice video in futuro tutti questi tool occupano poco spazio e molti potete occultarli sulla vostra bici inoltre la spesa una volta effettuata si spera fiduri un po reintegrando di volta in volta si verificano emergenze molti tool con smaglia catena falsa maglia per la vostra catena fascette da elettricista occupano poco spazio potete inserire nel tela il tela camere d'aria anche se avete gomme tubeless latticizzate un biglietto da visita o un cartoncino nel caso in cui il copertone abbia subito tagli importanti e fuori riuscirebbe la camera d'aria una volta montata smonta valvola adattatore presta spesso è capitato di dover raggonfiare le gomme dal benzinaio o gommista e ne fossero sprovvisti visto che le auto e le moto montano la valvola shredda cacciagomme un paio sono sufficienti una pompa a mano per occupare meno spazio consigliamo una bomboletta di co2 con il relativo erogatore kit vermicelli se avete le gomme tubeless ed una valvola tubeless completa di riserva utilizzate i guanti la bomboletta altrimenti ci lasciate i polpastrelli strisolante o nastro americano che sarebbe anche meglio ne bastano 4 giri guanti in lattice e fazzoletti vari sono sempre ben accetti molti tengono inserito tutto in un astuccio o suddividono i vari oggetti tra telaio e borsa soccorsella altrimenti tutto in una tasca dello zaino e via il 90 per cento degli inconvenienti dovreste essere a posto probabilmente tutti i link ve li suggeriamo qui sotto in descrizione se questo è stato di vostro gradimento lasciate un like e ovviamente scrivetevi qui sotto al canale se non l'avete fatto perché ebbene sì finalmente nel prossimo video parleremo proprio proprio grazie grazie